Ehi Fere, dimmi, ciao, cosa ti sei messo oggi? Cosa ti sei messo? E' la nuova attrezzatura balistica Fere, ma secondo me non serve a niente Puoi vedere? Prova a spararmi Mi stai facendo il solletico Fere, non mi fai nulla Mi spiace Fere, ma con questa non mi puoi battere nemmeno tu Sono troppo forte e questo oggi la testeremo Ehi ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki E io sono Stef e che si chiama GTA V E stiamo qui con un nuovo episodio del Si può fare, questa volta speciale Perché oggi lo dedicheremo a testare la nuova attrezzatura balistica che Stef sta indossando in questo momento Esattamente, è stato bellissimo, non ho però visto che dalla ricerca finalmente la potevo sbloccare Sei stato fortunato, io ancora non l'ho sblocca Lo so, ho tanti dubbi a riguardo, ho tanti 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 dubbi Il primo dubbio, ok Sopravvive quando viene investita, oppure quando viene investito ha il danno normale Sopravvive alle esplosioni, quanti colpi riesce a sopportare di ogni tipo di arma Se viene colpita la testa subisce comunque più danno Ci sono tante 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 cose da provare Fere, le voglio provare tutte, ma la prima cosa che vi voglio far vedere Ah, non investirti? No, è il fatto che io non posso salire sopra i veicoli Anche se premo il tasto e anche se lei ovviamente non c'è Io non posso salire né sulle moto, né sulle macchine, niente di niente Quindi quando stai in questa armatura puoi soltanto camminare Dopodiché la cosa più bella è questa È di una cattiveria che non ne avete idea Anche perché regge tanti colpi e spara tanto Dimmi Fere Ma la regali per il compleanno? Fere ma la devi prima di tutto trovare tu come ricerca No, nella realtà No Fere Ma la fai fare? No, non posso Anche perché poi la vorresti rosa e andresti in giro per la città fare la spesa con questa Così, così, esatto Ti ci vedo bene E al posto dei proiettili lancierei i caramelle Sarei la regina della città Va bene Fere, aspetta che chiamo Lester che qua i poliziotti non mi devono rovinare la mia armatura Ma che noiosi dai Eh, lo so, neanche ci fanno provare le armature militari Personalmente la prima cosa che voglio vedere è quanti danni prende se vieni in visita Quindi divertiti pure Fere Sì, sì, sono le cose più belle Si può fare le adoro per questo motivo Vai Vado, sei pronto? Vai Vado Aiuto, aiuto Ma Fere, non sei volato via Aspetta che prendo Prendi molta più rincorsa un attimo Esatto Vado tutto di sotto? Sono dritta Ok, ok, vai Fere Ok Che succede? Questa volta ti ho preso bene Allora, più o meno mi hai tolto un tanto così di vita Che circa il 15% della vita di questa armatura E allora funziona anche nell'essere investiti Perché se tu mi investi normalmente a quella velocità Se non ricordo male io perdo circa metà vita Allora, o muori o perdi almeno, almeno, almeno metà vita Quindi comunque questa armatura ha impatto anche per quando si viene investiti Non l'avremmi detto, pensavo che la Rockstar avrebbe sbagliato questa cosa E invece l'ha fatta nel modo giusto Prima cosa scoperta Fere, vuoi provare qualcosa tu adesso? Sì, sì, sì Proviamo a spararti Ecco A spararti Dopo che ti investiamo mi sembra giusto spararti Prima o poi dobbiamo farlo Quindi togliamocelo subito Mi hai detto che dovremmo provare tutte le armi, giusto? Sì Proviamo, vediamo Allora io ne ho tante Quindi sono molto indecisa Proviamo questo Un bel fucile a pompa Ok Allora, sei pronto? Aspetta che c'è un tizio che se non ti investe Vieni nel marciapiede Allora, togli ti mi stai disturbando Lascialo in pace Lui non c'entra nulla Vai Vai via Vai via Vai via Vai via Vai inizio Allora, vuoi prima la testa o qualche altra zona? Prima la parte centrale del corpo Ok Vai Un colpo Ok Più o meno il 3% di vita Vai ancora? Ok Sì, vai, 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 vai Ne rego abbastanza Ok Ok, vai con la testa Vediamo se fa di più Ok Vai di nuovo Fai tutta la faccia rossa Allora, secondo me Che dici? Com'è? Prima di tutto considera che ho ancora un pochino di vita Quindi mi hai sparato circa 8-10 colpi di fucile a pompa E partivo da metà vita Sì E sono ancora in vita Quindi regge davvero bene E mi è sembrato però E non vorrei dire scemenze Ma mi è sembrato che il colpo alla testa O varia poco Oppure non varia per niente Davvero Quindi questa è una cosa interessante Ah, perché in effetti sei corazzato Sono corazzato quindi non mi sorprende Però Esatto Non sono riuscita a vedere abbastanza bene Per capire se direttamente non cambia nulla Cosa? Posso salire di nuovo di vita mangiando degli snack? Ah, beh, in effetti In effetti puoi mangiarle Vabbè, sì Gli snack non sono disponibili quando indossi l'attrezzatura balistica Vedi, quindi altro difetto tra virgolette Puoi mettere un giubbotto antiproiettili? No, non puoi neanche quello Vabbè, mi sembra eccessivo Volevo capire Comunque erano cose da capire Adesso rimango a guardare se la barra sta aumentando Perché a me sembra di sì Guardate un po' Si recupera davvero la vita Però si blocca a metà Uguale, uguale, uguale A quando sei una persona normale Che però non mangia snack Quindi quando recuperi la vita Arrivi fino a metà Uguale, identico A quando hai questa armatura Quindi in ogni caso Se te la giochi bene Puoi farla durare Anche, anche tanto tempo Sì, sì, sì Se poi ti nascondi E te la giochi bene, sì Voglio provare un'altra cosa Ok Ok Diminuisce anche i danni da caduta? Eh, mi sa che qui stiamo pretendendo un po' troppo Secondo me, no Però bisogna vedere, consolini Il dubbio comunque c'è E noi dobbiamo testare C'è un problema, Stef Dimmi, Fere Se tu non puoi salire nei veicoli Non puoi salire neanche gli elicotteri Come salti in un palazzo Cioè, come vai in un palazzo Alto, 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 alto Eh, infatti sto cercando un posto dove andare, Fere Basta, Fere Mi sono stancato di vivere in questa armatura È tutto troppo facile Ammazzo la polizia con un colpo Aspetta Ammazzo anche le feriniche con un colpo Ti blocco Sopravvivo a qualsiasi cosa Devo farla finita, Fere No, non lo fare Mi dispiace, Fere Non ti buttare Devi accettare il mio destino Addio È morto È morto Quindi racconta Com'è andata Beh, avevo metà vita di quell'armatura Quindi direi che ufficialmente Non ti difende dai danni da caduta Sì, sì, sì Abbiamo trovato il primo punto debole di questa armatura Vediamo se ne troviamo altri Abbiamo ancora da provare Oltretutto Gli esplosivi E un veicolo in particolare Sì, tutto bello Però io, ad esempio, mi sono buttata dal palazzo con la mia moto E sono ancora viva La mia moto protegge più i danni della tua armatura Che costa tantissimo La tua moto esploderà No, la mia moto è bellissima E supererà tutto Ci tengo a fare una cosa, Fere Voglio rievocare una vecchia hashtag Che, diciamo, ci portava Non lo so Hai già capito quale? Ci porta tanti ricordi nel cuore Esattamente Dì tu l'hashtag, dai Ti lascio l'onore Palito Bay Il re di Palito Bay, Fere Mi ero Scusa Mi fa sì, i ricordi e tutto E me la sbagli pure No, eravamo il re di Palito Bay Avevamo la casa Avevamo il motorcycle club Avevamo tutto Io ti dico, la casa ce l'ho ancora Non l'ho mai venduta Anche io ce l'ho ancora Certamente Adesso Abbiamo anche il bunker Perché io il bunker me lo sono comprato qua Perché Non tradisco la mia città preferita E quindi ritorno all'hashtag Il re di Palito Bay Adesso abbiamo un bunker E comandiamo per davvero la città Adesso facciamo arrabbiare, Fere Perché? Vieni dentro il bunker, Fere Perché? Diciamo che Trai quando hai comprato il tuo bunker E quando l'ho comprato io C'è stato È passato del tempo E ne ho approfittato Per renderlo più bello del tuo, Fere Hai comprato tutto personalizzato Tutto potenziato Fere Il mio è vuoto Fa schifo Anche se l'ho pagato Allora questo costava pure di meno E per quello si riuscita Costava un milione in meno Sei disgraziato Col milione che ti avanza Te lo potenzi È ovvio Io invece volevo farle così in grande E sono ancora col bunker bruttissimo Fammi vedere Ti sei presa il pacco Perché di fatto ero uguale identico Io pensavo che cambiassero anche dentro Invece a quanto ho capito Sono tutti uguali Vieni con me Vieni con me Da questa parte E guarda un po' Gli ho cambiato il colore Ok E c'è un sacco di personale Perché ho potenziato Non c'erano altri colori C'era il blu Però col giallo Ho un sacco di lampade E un sacco di cose molto carine Ah le piante sono belle Belle Anche le piante Guarda però quanto personale c'è Guarda questi A cosa state lavorando Me lo fate vedere Stanno lavorando alla prossima arma Che tu non avrai Fere Ci sono davvero i progetti Vieni a vederli Ah lì vedi le armi I progetti delle armi Oh bellissimo Bravi Bravi Ottimo lavoro Ottimo lavoro Dopodiché Abbiamo Vabbè qua il computerino classico Certo certo Anche se forse tu non hai neanche questo Guarda No l'alloggio no Ovviamente io ho preso solo quello base Quindi no Qua ti puoi mettere a dormire Ti puoi cambiare i vestiti Puoi fare un po' quello che vuoi È carino Ed è molto bellino Aspetta che mi sdraio un attimo Fere Si stanco Ho un po' di mal di schiena Dopo aver provato tutto con l'attrezzatura Si stanco Nel mentre ci tengo a precisare Tra una armatura balistica e l'altra Passano 15 minuti Quindi dobbiamo aspettare Nel mentre vi facciamo Un mini tour Oh 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 Fere 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 Step 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 Ai 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 Andrà male vero? Non lo so Mi farò male Fere? Allora ti dico la verità Per una volta non so proprio cosa aspettare Neanche io Non lo so Potrebbe essere che non prendi danno Potrebbe essere che ne prendi poco Potrebbe essere che ti faccio fuori Non lo so Posso ammettere che ho paura? Si Anche se con quell'armatura non dovresti Eh io ho paura allo stesso Sai com'è? No 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 Nel dubbio ho paura Non dovresti Allora Fere Inizia a prepararti Vai lì tutto in fondo Prendi la tua bellissima rincorsa E dimmi quando sei pronta Si sto facendo il giro un attimo Io sto facendo le preghiere invece Il giro è tondo Per poi prepararmi ad essere dritta Ecco qua Ecco qua Sei pronta Fere? Più o meno Più o meno Ok Pronta? Sono abbastanza dritta Sì sei perfetta Vado? 3 2 1 Vai Fere Vado dritta Non tocca altro Vado dritta Si salvi chi può Vado dritta Si salvi chi può Sei volato parecchio Non mi hai fatto nulla Come? Non mi hai fatto nulla Aspetta Cioè Se mi avesse tamponato un coniglio Mi avrebbe tolto più vita Con la macchina mi hai tolto più vita Fere Cioè con la macchina ti ho fatto male E anche questa volta ti ho preso totalmente in faccia Cioè c'è la tua faccia Mi hai fatto volare malavente Cioè la tua faccia stampata qua sul muso del phantom wedge Guarda mi sto allontanando anche io Nel mentre correndo Così è proprio una rincorsa allucinante Vai io mi metto dritta Vai 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 Inizia a correre Aspetta aspetta Io voglio andare ancora in retromarch Di sicuro Di cattiveria pura stavolta vado eh Non ho più paura Sei pronto? Quando vuoi Quando vuoi Vado Ok Ok sono dritta Dovrei prenderti Perfetto Ok brava Vado 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 Ok Che succede? Niente Come si mi dà la carezza Fede Cioè zero Tipo ma proprio L'un per cento della vita Giù di lì No non è giusto Non me la puoi prestare l'armatura Vado non si può No Purtroppo no Te la vorrei far vedere Ma volevo vedere Riprendimi in pieno Però questa volta proprio con la punta Non ci credo È difficile Infatti stai qua stai qua stai qua Non farei troppa rincorsa Ma mi prendi in pieno Ok Vediamo se cambia qualcosa Non di punta Ok vai Vai Ti ho preso con la punta Tu ce la avete anche raschiato Ok 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 Così mi hai tolto almeno un 5% Fede Dimmi So già cosa puoi dire Quindi sto ridendo Vai Secondo te Le eliche dell'aereo Fanno male Mi fanno male Fede Vai Tu che dici? Secondo me Non lo so Non lo so Dai queste fanno parecchio male Vediamo Ok 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 Cioè ti ha detto Quanto avevi di vita? Tutta Instant shot Sì Vabbè anche giusto Abbiamo troppo No Seconda falla Seconda falla per quanto mi riguarda No dai Allora se non ti riesci a bucare un proiettile Non ti taglia neanche una lama Eh però aspetta esistono i giubbotti antiproiettile Non è che ti riparano dall'eliche di un elicottero scusami eh Se metti il punto del giubbotto antiproiettile Steph 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 corri Che c'è? Corri È arrivato un camion dei pompieri Ok Quindi adesso io cerco di fermarlo Ok E proviamo un attimino Se ti posso investire Se ti faccio male col camion dei pompieri Sì Fede ma non ho l'armatura Ah dobbiamo aspettare 15 minuti Guarda dovremmo aspettare 14 minuti e 18 secondi Fede Steph mi hai fatto uccidere il conducello No Fede l'hai ammazzato di tua spontanea volontà No l'hai fatto tu No no sei stata tu L'ho fatto tu Sai cosa ti dico? Dimmi Che ti prendo la tua moto Direi che ci sono fermati così per questo video Allora secondo me ci sono troppe cose ancora da provare Contro il carro armato Punto 1 Cose esplosive in generale Punto 2 Ehm Poi cosa ci potrebbe essere? Lanciarsi in acqua in qualche modo Eh sì Punto 3 Ce ne sono ancora tante Può nuotare? Può nuotare Fede? Questo è un dubbio gigantesco La più falli di idea I consolini hanno bisogno di saperlo Fede Eh certo esatto esatto Quindi fateci sapere con commento e con sondaggio Se volete un altro si può fare Dedicato a questa fantastica armatura E soprattutto fateci sapere Tutto quello che volete che noi proviamo Quindi nei commenti Sbizzarritevi Proponeteci tutto quello che vi viene in mente E noi proveremo Sono molto 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 curioso Di vedere tutto quello che ci proporrete Quindi ci fermiamo così per questo video Lasciate tanti like se vi è piaciuto Appunto tanti commenti e sondagino E ci fermiamo così Spero che ci riesci a dire Sì, ci piace, ci piace, ci dici un like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerarli Da di iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao